Anche in un momento difficile come quello che si sta vivendo, l'arma non fa mancare il suo sostegno. Con un guizzo di orgoglio nello sguardo che emerge dalla mascherina, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, Fabio Castellari, commenta un fine settimana intenso che ha visto i Carabinieri di Salerno impegnati in due operazioni singolari. Due anziani salvati da un incendio nella loro abitazione e l'applicazione della nuova normativa anti-Covid dopo un'aggressione ad un medico nel pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi da Dragona. Non ultima, un'operazione più tradizionale antidroga che ha portato anche a scoprire un vero e proprio tacquino con tutti gli indirizzi per il mercato di spaccio. Comandante, è stato un fine settimana di intenso lavoro per le forze dell'ordine, anche i Carabinieri in campo in diversi settori hanno salvato due anziani da un incendio, c'è stata l'aggressione all'ospedale e poi l'ultima in ordine di tempo un'operazione antidroga. Questa è l'ennesima conferma che anche nel difficile momento l'arma non fa mai mancare il suo sostegno in ogni settore. C'è stato un episodio di effettivo allarme per l'incolumità di due anziani coniugi, siamo all'isopera del barcanasta, un incendio, due dei nostri ragazzi della sezione radio mobile sono prontamente intervenuti e sono riusciti a spegnere immediatamente sul nascere questo focolare di incendio che fra l'altro, a detta degli stessi vigili del fuoco intervenuti successivamente per la messa in sicurezza, poteva avere conseguenze ben più gravi senza il nostro intervento, poiché è stato necessario anche mettere in sicurezza una condotta del gas. Relativamente a quanto accaduto invece al pronto soccorso dei ruggi abbiamo messo in campo la nuovissima disposizione legislativa proprio che mira a tutelare ancora di più gli esercenti delle professioni sanitarie che in questo momento di particolare difficoltà, di particolare impegno per loro ovviamente necessitano la massima tutela possibile. Le due persone vengono quindi denunciate per l'aggressione a un medico, vengono ulteriormente denunciate per l'interruzione di pubblico servizio, sanzionate ai sensi della normativa anti-covid e viene anche inviata il loro nominativo all'ASL di Salerno per i provvedimenti di confedenza che ovviamente contemplano anche l'isolamento fiduciario in attesa di un nuovo tampone. I dettagli invece, comandante, su questa operazione antidroga con due arresti? Due arresti invece nella serata di ieri sul lungomare Trieste una pattuglia della nostra sezione radiomobile ha colto un'autovettura che si muoveva con fare particolarmente sospetto e particolarmente audace nel traffico, nel momento in cui sono stati fermati i due soggetti già noti alle forze di polizia sono stati trovati in possesso di svariate decine di grammi di stupefacente già preconfezionati per la vendita, tutti in piccole palline. I due soggetti sono stati trovati in possesso anche di diverso denaro sequestrato poiché è probabile prevento dell'attività illecita, inoltre nel proseguo dell'attività siamo passati alle perquisizioni domiciliari, nota importante è stato rinvenuto un piccolo tacquino con all'interno varie indicazioni sulla loro attività a dispaccio.